Musica Vediamo quali sono i titoli principali dei quotidiani regionali online partendo dalla prima pagina di Sassari Notizie. In primo piano lo sport, la Dinamo è ancora un cantiere aperto, Venezia gioca bene e vince in rimonta. La Dinamo ha perso al Palazzo Radimigni, la partita è finita a 70-82 Venezia, consegna a Sassari una mara sconfitta a domicilio e lo fa mettendo in scena una palla a canestro essenziale e ben orchestrata. Di contro invece una Dinamo ancora scollegata, le cui individualità tardano nello sfociare in unità di intenti con tante conclusioni forzate e poca concentrazione nelle situazioni chiave. Andiamo avanti e leggiamo la prima pagina della Nuova Sardegna. Cacciatore spara e c'entra un'abitazione vicino a dove giocano i bambini. Scano Montiferro, tragedia sfiorata alla periferia del paese. L'uomo che ha sfarato ha cercato di giustificarsi dicendo che è stato un colpo di rimbalzo, ma questo non ha convinto i carabinieri. Proseguiamo con la prima pagina dell'Alger.it. In primo piano differenziata, Alghero a maglia nera, c'è attesa per il nuovo servizio. Nel Sassarese la quota di raccolta differenziata sfiora il 50%. Il dato emerge dal rapporto rifiuti urbani 2015 pubblicato dall'ISPRA. Ad Alghero poco più del 30%. A gennaio l'avvio del nuovo appalto della nettezza urbana. Andiamo avanti con la prima pagina di Olbia.it. Ricoverato 64enne e l'ottavo intossicato da funghi velenosi. Un uomo di 64 anni ieri mattina si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo aver consumato a cena un piatto di funghi fritti raccolti nelle campagne del comune di Lori. L'uomo è finito all'ospedale con sintomi a carico dell'apparato gastrointestinale. Così come ha accertato, l'intossicazione è stata causata dall'ingestione di un fungo velenoso. Andiamo avanti con la prima pagina delle cronache nuoresi a Rizzo. cade in un diruppo durante un'escursione trasportato in ospedale in elicottero. L'escursionista di Quartuccio ha riportato alcune fratture nella mattinata di ieri. Poco dopo le 8 circa un 41enne di Quartuccio per cause ancora accidentali è caduto da una scarpata nel corso di un'escursione nelle campagne di Arizzo. L'uomo è stato soccorso, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato alcune fratture. Andiamo avanti con la prima pagina di illatv.it. Incidente stradale muore bambino di 9 anni. Incidente mortale nella serata di ieri sulla strada statale 197 San Gavino Guspini. Vicino al Bivio per Gono Svanadiga ha perso la vita un bambino di 9 anni. Rimasto coinvolto nello scontro tra due vetture, una Fiat Marea e una Fiat Bravo. Ancora non sono chiare le cause dell'incidente. Il bambino viaggiava a bordo della Bravo. L'impatto è stato violento e per lui non c'è stato nulla da fare. Andiamo avanti con la prima pagina della provincia del sul Cisiglesiente. Mozione trasversale in Consiglio regionale per portare tre tappe del Giro d'Italia in Sardegna. I riformatori sardi hanno presentato una mozione trasversale condivisa da gran parte del Consiglio regionale e che sarà discussa in Consiglio che impegna la Giunta regionale ad attivarsi concretamente presso gli organizzatori e le altre competenti sede per riportare l'importante manifestazione sportiva internazionale in Sardegna. Proseguiamo ora con la prima pagina di Villacidro.info. Ritrovati i due uomini scomparsi nel medio campidano. Sono sani e salvi i due uomini di cui non si avevano più notizie da venerdì. Luigi Cabriolu è stato ritrovato ieri mattina da Semini presso il Bed & Breakfast a Saddommu dove il pensionato ha trascorso la notte. È stato il gestore stesso a rendersi conto dalle foto diffuse in internet che il cliente che alloggiava era proprio l'uomo scomparso da Villacidro. Avvisati i carabinieri, l'uomo in stato confusionale è stato riaccompagnato a casa dai parenti. Andiamo avanti con la prima pagina di Cagliari Pad. Cronaca, braccio di ferro, antimilitaristi, questura per corteo a Teulada. Lo abbiamo detto alla manifestazione del 31 Trovere, ribadiscono i militanti. Non ci sono buoni e cattivi, il nostro nemico è la Nato, lo Stato italiano e tutti gli altri promotori di morte che si addestrano nel nostro territorio. La protesta contro le basi e le esercitazioni militari in programma martedì a Portopino attorno al poligono di Teulada ci sarà. È il messaggio ribadito dal Comitato studentesco contro l'occupazione militare della Sardegna. Infine concludiamo con la prima pagina dell'Unione Sarda.it. Il lungo viaggio da Sassare a Cagliari. Posti in piedi sui vagoni Trenitalia. La denuncia arriva direttamente da uno dei vagoni del treno Trenitalia diretto a Cagliari. I posti ad sedere non bastano e i passeggeri sono costretti a viaggiare in piedi occupando tutto lo spazio vitale, persino i corridoi e le zone antistanti l'uscita. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'ascolto. Buona giornata. Grazie.